Due gioielli del Parco San Bartolo come le spiagge di Fiorenzuola di Focara e Castel di Mezzo puntano a diventare più accessibili, a cominciare da Fiorenzuola dove il Comune ha il lavoro per il ripristino della rete idrica sulla spiaggia. Ovviamente sono centinaia di turisti che vengono a visitarla e ci è sembrato come dire normale ripristinare questo servizio, è vero che non è stato semplice perché le frane che c'erano state lo scorso anno ma anche gli anni precedenti avevano completamente rotto quella che era la condotta e quindi si tratta di ripristinare la condotta dal centro abitato di Fiorenzuola fino a mare con una spesa importante di 10-15 mila euro e però lì riusciremo a riportare appunto la doccia importante anche perché le persone lì non hanno un'alternativa, non c'è un bar, non c'è un ristorante non c'è nient'altro e quindi se una persona deve stare al mare tutto il giorno, soprattutto un turista non aveva neppure un goccio d'acqua. Sulla strada del mare di Fiorenzuola si stanno poi sbloccando anche le risorse extracomunali volte alla messa in sicurezza del percorso. Ci sono risorse che purtroppo sono anni che non vengono spese, qualcuno ha dormito, le risorse ci sono ormai da troppi anni anche qui sono diventato sindaco da appena un mese ma ovviamente so che anche l'amministrazione precedente aveva cercato di fare di tutto per riavviare quanto prima questi lavori mi hanno detto anche perché che dovrebbero partire almeno una parte di questi lavori a breve in particolar modo nella strada che porta a mare a Fiorenzuola di Focara dove verranno ripristinati i cosiddetti guardrail e anche altri tipi di strutture importanti perché possono consentire anche i mezzi di soccorso e anche i mezzi che consentono che vanno a pulire la spiaggia di poter raggiungere la spiaggia in maggiore sicurezza. C'è poi la strada Rive del Faro di Castel di Mezzo dove il centro operativo del comune sta intervenendo per rendere più agevole il percorso pedonale verso la spiaggia. Stiamo anche facendo un altro intervento che spero riusciremo a chiudere nei tempi più brevi possibili cioè quello di ripristinare il sentiero che porta a mare a Castel di Mezzo anche qui che porta in una delle spiagge più belle che abbiamo nel parco del San Bartolo chiusa da anni. Stiamo facendo gli interventi con gli operai del centro operativo quindi i nostri operai per cercare di riaprirla e quindi consentire che nel parco del San Bartolo oltre alla spiaggia di Vallugola, oltre alla spiaggia di Florenzola di Focara c'è la possibilità anche di poter raggiungere il mare passando da Castel di Mezzo.